In attesa di definire nelle prossime settimane i calendari e gironi la Serie C ved già alcuni movimenti di calcio mercato interessanti, tante le voci che poi non diventano fatti concreti ma alcune operazioni sono già andate in porto. A cominciare dal Catanzaro che ha ufficializzato il difensore Tentardini e che stando alle ultime notizie è praticamente chiuso per bombaggi. Discorso un po' più aperto per Fella che dovrà aspettare che la Serie Unitana risolva definitivamente i suoi problemi. La Turris ha salutato il suo capitano Fabio Longo e continua la corte serrata per Emanuele Santaniello. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta almeno per entrare nel vivo del discorso. Per quanto riguarda invece la Viterbese situazione da definire per il girone con i laziali che in caso di esclusione definitiva della Casertana andrebbero nel girone C. Ufficializzato il giovane Duffizi mentre l'Albino Leffe ha ufficializzato in panchina Michele Marcolini ex allenatore anche se solo per un mese dell'Avellino. A proposito di allenatori il Padova ha annunciato il contratto annuale di Mr. Pavanel che ha ben figurato anche ai playoff con la Feralpi di Salò. Sempre il Padova oramai chiuso con l'Ascoli per il ritorno a titolo definitivo di Cosimo Chiricò, contratto triennale per l'esterno d'attacco pugliese. Il Pescara di Auteri sta per mettere nero su bianco con la Fiorentina per Giuliano Iglianes. L'ex difensore bianco-verde dovrebbe arrivare a titolo definitivo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS